Lorenzo Milani, partiamo dallo scorso campionato quando con la maglia del Ponte d'Era hai fatto gol proprio al Pescara, partiamo da lì. Sì, è sempre stata una buonissima piazza giocare contro il Pescara, alla fine è sempre stata un'emozione, quando sono partito dalla panchina mi ha dato lo stimolo in più per dare il meglio quando sono entrato. Quest'estate uno dei primi nomi fatti dal DS dell'Icarri è stato proprio quello di Milani, il Pescara ti ha preso a titolo definitivo, ci racconti un po' quando ti è arrivata la telefonata di Pescara, cosa hai pensato? Ma non ci ho pensato nemmeno un minuto, alla fine ho guardato il telefono e ero incredulo, poi pensare che una società come il Pescara abbia puntato subito su di me è stata una cosa eccezionale. Esterno della difesa a quattro, puoi giocare chiaramente anche come quinto, ti chiedo subito se in questa settimana si è stato provato più a quattro o a cinque? Ma nell'arco della settimana in questo ritiro abbiamo provato tanto a quattro, però ho giocato tanto anche a cinque, quindi io in base alle esigenze del mister posso mettermi ovunque. Contratto di tre anni con la maglia del Pescara vuol dire che il Pescara crede tanto in Milano? Sono onorato di questa cosa, infatti spero di poter fare il meglio e ricambiare il favore. C'è un giocatore di alto livello a cui si ispira Milani? Ma alla fine ci sono stati tanti giocatori che mi hanno ispirato, possiamo parlare di Marcello, se no Bale nella fase più offensiva, comunque giocatori molto tecnici e offensivi. Scelti proprio così, scarsi. Se devono essere ispirazioni e idoli bisogna puntare in alto. Ti chiedo un'ultima cosa, l'obiettivo secondo te che deve avere il Pescara in questo campionato? Ma sicuramente cercare di fare il meglio possibile e puntare il più in alto possibile. A proposito di idoli, lì giù con la maglia bianca se vuoi ti puoi girare, guarda vicino all'idrante c'è Mario Balotelli, ti toccherà? Speriamo non ne faccia troppi e sicuramente è un sogno per me giocare contro lui.